Siamo in diretta da Olbia, dove stiamo intervistando il figlio di Saddam Hussein, Vavari Hussein. È venuto qua per distruggere Piazza Nasiria, che gli ricorda la morte del padre. Ecco l'intervista. Buonasera. Scusi, ma lei perché... perché è venuto proprio ad Olbia? Per distruggere la Piazza Nasiria. Scusi, ma che volo ha usato per venire fino a qui? Così, ma che volo ha usato Talebana Airlines? Ho utilizzato Talebana Airlines. Quando sarà la prossima volta, la sua prossima apparizione, cioè ad Olbia? Forse sarà presto, presto, perché devo uscire la Piazza Nasiria con il pezzo. Ho il pezzo perché è molto dispensabile, prendere ogni mezzo e distruggere Piazza Nasiria. Sarà molto presto, distruggere davvero Piazza Nasiria, con armi molto potenti. Eh, volevamo chiedergli anche un'altra cosa. Eh, ma lei è un grande maestro di musica. Oh, benvenuti, sì, benvenuti. Oh, benvenuti, sì, 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 ora voglio fare un bello show. Oh, benvenuti, sì, 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 sì. Oh, benvenuti. Oh, benvenuti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti